la florenza e serie a e allora dobbiamo festeggiare con il top team di questa di questa squadra presidente tommaso beccali tiratore sportivo fabio valgimiglie mister il licelelli mister no partiamo dal presidente partiamo partiamo subito cosa volete che dica devo dire soltanto che oggi è il coronamento di un sogno un sogno è parte da lontano un sogno è parte dal sacrificio dallo spirito di abnegazione e da un sentimento enorme che oggi ha riempito questo campo e ha fatto capire che questo è il nostro biglietto a visita per il prossimo anno noi ci vogliamo stare vogliamo essere prorompenti e dirompenti e lavoreremo per questo per renderci ancora migliori allora fabio cosa cosa rimane da dire non rimane niente si conclude qui diciamo il primo step del florenza che in tre anni è arrivato alla massima serie stato un cammino diciamo lungo ma corto ricco di soddisfazioni poi niente qui finisce un primo step e ora si inizia a lavorare per il secondo andremo in prossima serie non andremo come comparsi ma vogliamo andare e dire la nostra chiudiamo con il mister allora un commento su questa stagione fantastica c'è un sogno si è avverato un sogno oggi come avevo ben detto l'altra settimana è un sogno e la società ma mi ha dato questo incarico io ho cercato di fare il meglio delle mie possibilità grazie a tutti sia dirigenti e le ragazze perché mi hanno messo in condizione di far bene di ottenere questo risultato che però in merito dell'allenatore per me è meno che dei giocatori e della società che niente si avverà un sogno e poi come si dice la prima volta non si scorda mai no sicché per me è la prima volta e basta questo elisabetta tona il capitano di questa squadra non è la prima volta per te ma la prima volta per la florenza qual è l'emozione di questo passaggio in serie a no no è la prima volta anche per me dalla serie b alla serie a guarda sono emozionatissima nel senso che è la prima volta e nonostante non sia per esempio uno scudetto che ho vinto fortunatamente è stato come vincere uno scudetto quindi sono contentissima ce lo meritiamo abbiamo giocato bene a parte magari primi minuti in cui eravamo un attimo tese ma ci sta poi è andata bene e abbiamo chiuso 3 a 0 e non era in discussione il risultato un campionato perfetto neanche una sconfitta neanche alla fine c'è solo da festeggiare adesso adesso sì adesso ce lo godiamo e basta perfetto grazie mille la florenza in serie a si può festeggiare questa grandissima vittoria contro la roma evelyn bicchierello sei venuta per questo alla fine alla florenza beh l'obiettivo di inizio anno era la festa di oggi l'aspettavamo tutte e non si vedeva allora quindi siamo siamo contente e adesso si festeggia vabbè ora ci godiamo questo questo primate questa vittoria e poi più avanti si penserà al prossimo anno ora ancora presto si festeggia e basta per il momento si festeggia e basta si festeggia e siamo con jenni olman autrice del secondo gol oggi you score the second goal to today and you will never forget the the first time in serie a no never this is this is what i came for and i'm really really happy si lei è venuta qui per questo adesso è veramente veramente felice what do you think about your future now you have to party this championship yes of course i want to follow this team up to serie a and i'm looking forward to the next season ovviamente vuole finire di festeggiare e vuole restare con questa squadra anche per l'anno prossimo good luck and congratulations thank you very much alessandra nencioni insieme alla florenza dall'inizio e questa promozione storica in serie a adesso dopo tre anni dal dal primo tocco di palla con la florenza a quale sono le tue emozioni indescrivibili se ricordo che quando iniziato di nuovo col florenza io avevo solo intenzione di fare qualche allenamento e poi invece coinvolta da dalle compagne dai tifosi da dallo staff da tutti abbiamo creato qualcosa di di nuovo di importante e niente io non so cosa dire voglio ringraziare tutti perché è stato un percorso bellissimo abbiamo chiuso chiuso un capitolo importantissimo e adesso ne cominciamo un altro tutto nuovo la florenza serie a ci vediamo l'anno prossimo e si giocherà di sabato grazie a tutti